sono rassieri, questa qua la manda il mio figlio, si rende conto cosa si perde e non venire qua al weekend, stupendo, favoloso, che la dici ha la polenta? guarda qua, guarda, magari ti mangiare la polenta, meno male, ho mangiato una polenta la minestra della pizza da Rantino, è favolosa pure quella resta lì che stiamo meglio noi grazie